Si intitola Cose recluse, la nuova mostra fotografica allestita all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio regionale fino al 3 maggio. L'esposizione, promossa dal Garante regionale dei detenuti, propone il reportage realizzato dal fotografo Daniele Robotti e dalla scrittrice Mariangela Ciceri, nella casa di reclusione San Michele di Alessandria. È una mostra molto particolare perché è fatta in carcere ma non ci sono persone, ci sono soltanto cose, oggetti. Quindi è una mostra particolare perché consente a chi la vede di entrare nel vissuto quotidiano del carcere attraverso gli oggetti. Io credo che chi non è mai stato in carcere non ha idea di quanta fantasia e vitalità ci sia da parte dei detenuti nel costruire oggetti all'interno della loro cella con i materiali più diversi. Questa mostra consente di entrare in questa dinamica, in questo meccanismo e consente anche di capire a chiunque qualche cosa in più della vita e della quotidianità all'interno del carcere.